Siamo Andrea e Fiorella. Siamo sposati da 35 anni ed abbiamo tre figli. Ci siamo conosciuti e innamorati ad un campo scuola nel nord Italia. Io ero alla ricerca, come tutti i giovani, della felicità, della libertà. Andrea, un tipo molto popolare, soprattutto con le ragazze, non credeva nell'amore per sempre ed era ateo. Una sera in discoteca colpo di fulmine. Non volevo però essere una delle tante. Io vivevo due grandi amori, il basket e il lavoro, e l'arrivo di Fiorella non ha cambiato di molto la scala dei miei valori. L'ho inserita tranquillamente al terzo posto. Sono passati due anni prima che riuscissi a dirle, stupito di me stesso, che forse io avrei anche potuto considerare che stavo con lei perché le volevo bene. Sentivo di essere questo tutto, che lei mi seguiva ciecamente. Con sorpresa sentivo dentro di me nascere un nuovo sentimento verso Fiorella. Invece di crescere sentivo che questo nostro amore si sgretolava. Avevo dentro una grande insoddisfazione e la necessità di cambiare qualcosa. Decisi di andarmene di casa accettando un lavoro stagionale. I miei la presero male e anche Andrea era contrariato. Un giorno Mirella, una ragazza che lavorava in un negozio vicino dove lavoro io, la incontro e vedo nei suoi occhi, una serenità e felicità che io non ho. Mi invita ad un incontro con dei suoi amici. In quel periodo io vivevo esperienze di tutti i tipi e accetto. Entrando una scritta «Dio è amore, ma Dio amerà anche me?». Nessuno, poi, mi aveva mai proposto di vivere il Vangelo alla lettera, di vedere Gesù in ogni persona. Ci provo, è la rivoluzione, mi si capovolge la vita. Forse fu per orgoglio che non la lasciai. Aveva cambiato radicalmente il nostro rapporto. Mi sentivo geloso di questo Dio che me la rubava. Ma questo suo mettersi in discussione coinvolgeva anche me, reinventando il nostro stare insieme, fino a farci decidere di sposarci. I primi tempi i nostri caratteri, le nostre abitudini ci hanno messo alla prova. Non sempre è stato facile anche trovare nei momenti di intimità quell'intesa che tutti sogniamo. avevamo esigenze, tempi diversi e molte aspettative. A me sarebbe piaciuto che lui mi capisse al volo, mentre Andrea desiderava la mia continua disponibilità. Abbiamo capito che dovevamo aprirci, perdendo tempo nel volerci bene, anche fisicamente, senza fretta, dicendoci quello che ci piaceva e quello che non ci piaceva del nostro stare insieme. Un giorno Fiorella mi ha chiesto di accompagnarla a degli incontri per famiglie. Non ero entusiasta, ma poi sono rimasto conquistato dal loro stile di vita. Volevano vivere il comandamento nuovo di Gesù. L'amore reciproco. Sbagliavano anche loro, ma ricominciavano continuamente. Mi colpì una coppia, il loro volersi bene. Quindi, approfittando dell'assenza di Fiorella, andai a trovarli. Parlamo della vita di famiglia, del rapporto tra noi due, della fede. Sentivo di aver sperimentato qualcosa di superiore all'amore pur bello che c'era fra noi due. Anch'io avevo incontrato Dio. Spesso da fidanzati parlavamo della fedeltà. Cos'era per noi? Io mi arrabbiavo perché lui diceva, però, se una bella ragazza mi cade in braccio, mica la posso lasciar cadere per terra. E sono io, invece, che mi ritrovo in questa situazione. Ero andata per aiutare come volontaria dai terremotati. Ed è, per ascoltare un ragazzo che aveva tanti problemi, un giorno, non so come, mi ritrovo a passeggiare con lui con un braccio attorno al collo. Dopo un primo momento mi dico, ma che sto facendo? Io amo Andrea. E mi faccio riportare immediatamente a casa. Però, nonostante questo, mi accorgo che dentro mi si sono insinuati pensieri, sentimenti che non mi fanno sentire libera. Decido di parlarne con un'amica che condivide il mio stesso ideale. E tutto svanisce. E qualche tempo dopo mi ritrovo a raccontarlo ad Andrea, dicendogli che sì, si può dire di no. Lo scorso anno, la settimana prima di Pasqua, una banale ecografia ha evidenziato che aveva un tumore che richiedeva l'immediata rimozione di un rene. Mancavano pochi giorni al matrimonio di nostra figlia. Ci siamo subito messi nelle mani di Dio. È stato un momento forte che abbiamo vissuti tutti insieme, serenamente, come famiglia, sostenuti dall'amore di tanti intorno a noi. Noi poi abbiamo seguito la cerimonia dal mio letto in ospedale, via Skype. Ho sentito come l'amore fra me e Fiorella era per sempre, non solo in questa vita, ma per l'eternità. C'è una frase che ci ha sempre accompagnato e aiutato a ricominciare nella nostra vita a due. Ve la vogliamo donare. Dove non c'è amore, metti amore e incontrerai amore. Grazie. I love him, I love him, I love him, and where he goes, I follow, I follow, I follow. I will follow him, follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep, keep me away. I will follow him, follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep, keep us away, away from his love. Oh, I love him, I follow, I'm gonna follow. Oh, my true love, he'll always be my true love. Forever, now and forever. I love him, I love him, I love him, and where he goes, I follow, I follow. He'll always be my true love, my true love, my true love. Now and forever, 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 forever. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep, keep us away. Away, away from his love. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Grazie.